indossare l'abito da sposa è un'emozione beh sì ci hai messo molto a scegliere il tuo abito da sposa è pochissimo sono andata da un da uno stilista e lì insomma l'ho trovato subito la cosa più brutta del tuo matrimonio la più brutta che mi ha preso un attacco di panico e come ero al fondo della chiesa diciamo fuori con mio padre non voleva entrare ho detto noi andiamo via andiamo via insomma poi alla fine è venuto vittoria prendermi fuori dalla chiesa ma dov'è la sposa quando arriva e ha capito che c'era qualcosa che non andava io ho detto vabbè entro ma non firmo chi si risposa è coraggioso fuori di testa o innamorato beh un po' tutto secondo me tutte le cose ti risposeresti risposeresti che domanda in teoria non lo so non si può mai dire mai però sono io sono ancora separata quindi non sono divorziata come mai tempi lunghi della burocrazia cosa gli uomini non sanno proprio fare beh dipende da chi ci sono alcuni non sanno fare niente poi altri che sanno fare qualche cosina e poi qualcuno che più bravo in genere i bugiardi sono i più bravi non vanno sposati non vanno sposati cosa non ti augureresti mai beh che cosa non mi augurerei non lo so non mi augurerei invece c'è un uomo violento è la cosa peggiore che possa capitare penso ti è capitato ma sì l'errore più grande del tuo matrimonio che è difficile l'errore più grande nel matrimonio è che bisognerebbe nascere due volte e poi magari se ne farebbero meno sono inevitabili gli errori nel matrimonio è molto difficile sei mai stata tradita io penso che tutti sono stati traditi e tu hai tradito no il matrimonio è tre aggettivi cattivi per definire un uomo violento non generoso e vizioso vizioso nel senso vizi gravi cosa hanno gli uomini meno delle donne gli manca questa emotività questa fragilità che alla donna che però è la sua ricchezza cioè il fatto di essere così fragile e di sentire tutto in senso negativo e la ricchezza anche in senso positivo c'è sente tutto anche il bello una donna si deve preoccupare quando un uomo beh quando un uomo ti guarda come se fosse un'estranea quando hai pianto per un uomo sai piangi per un uomo piangi per te stessa per la situazione in cui ti sei messa ti consideri ancora la signora cecchi gori beh mi chiamo rita rusic però sono la signora cecchi gori nel senso che sono stata non rinego niente di quello che ho fatto fatto tanti film firmandomi rita cecchi gori quindi perché no adesso hai trovato l'uomo della tua vita che domandone un'altra non vorrei che si casasse troppo qualcuno gli uomini diventano cattivi quando pensano che sei molto innamorato pure che vuoi molto bene un pochettino ti è facile lavorare con l'ex marito più facile adesso che prima forse le sue nuove compagnie sono gelose di te diciamo allora le persone più fragili sono gelose del passato le persone più intelligenti sono gelose del futuro percepisci l'invidia delle altre donne è un difettuccio che in genere abbiamo noi donne no quello di essere invidiosi eccetera io questa cosa l'ho capito quando ero piccolo quando avevo 12 anni ho capito che era qualcosa che faceva parte del nostro mondo femminile che dovevo abituarmi c'è che non dovevo rimanere male se cenerentola scopre che il principe non è così azzurro che fa e devi cambiare il regalo più bello che hai ricevuto un cane il più costoso e più costoso un brillante da chi vittoria le donne dell'est sono delle poverette ambiziose e sole povere sì sole non direi sai chi l'ha detto chi daniela santanchè veramente dicono che hai portato via l'uomo la santanchè ti infastidisce no perché nessuno porta via un'altra persona cioè non puoi obbligare una persona a stare con te né a lasciarle un'altra molte donne si mettono con chirurghi plastici perché che risparmiano ti senti bella mi piaccio l'ora migliore per fare l'amore l'ora l'amore la sera 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 buio l'ultima volta che hai fatto l'amore ma si dicono queste cose l'amore è un'illusione a cui è bello credere sei d'accordo beh sì è bello credere all'amore sei d'accordo che sia un'illusione sì forse l'amore è un'illusione il volersi bene l'affetto non è un'illusione qualcosa di reale l'amore così inteso come quella passione quei brividi quel non capire niente qui cioè anche esagerato stare sempre così non lo so io penso che sarebbe troppo l'araba fenice risorge sempre e tu quante volte sei risorta sono sempre stata più che viva penso sofferente ma viva cosa non rifaresti smettere l'università dispiacere qualcosa di grande essere ostinati è una virtù sì però beh nelle cose giuste però essere ostinati nelle cose persistere nelle cose sbagliate no ti consideri ostinata determinata caparbia più costinata citando il tuo libro è bello giovane ricco famoso e mi vuole che fai vai buttati perché no ok 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 ok